Allora, buongiorno a tutti Benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi Che chiamo? Chi c'è? Chi c'è piccolo? Vabbè, non ci fate caso Comunque, allora oggi Volevo fare un vlog Avevo deciso di fare un vlog Solo che praticamente Ho iniziato tarde Adesso è tipo mezzogiorno Perché mi sono svegliata circa mezz'ora fa Perché stanotte sono stata male La vita Sono stata male con la pancia Vabbè, non vi resto a raccontare i dettagli Comunque niente di Di super grave Un po' di problemi che mi portano Altri problemi Bastanza spesso Comunque niente di grave Però sono stata sveglia dalle 4 alle 7 Per farmi passare questo dolore Il mio amore quanto è bello Tra l'altro Tra poco devo uscire Devo andare a Napoli Tra Due o Tra tre ore Due o tre ore Quindi mi devo fare Devo fare un sacco di cose insieme Mi devo fare la doccia Aggiustare questi capelli Perché sono un po' sporchi Però non me li vorrei proprio lavare Quindi vedo un po' Cosa farmi Poi Devo truccarmi Devo cucinare E mi ha appena chiamato Il corriere Bartolini Che mi annuncia Che il mio pacco sta arrivando Penso sia il pacco di Sephora Quindi magari Che arriva Se arriva Entro breve tempo Perché appunto C'è un sacco di cose da fare E poco tempo Vi faccio vedere appunto Cosa mi è arrivato Non vedo l'ora Non ho preso tantissime cose Ho preso solo due prodotti Però proprio è stata una cosa del momento Profittando del 20% di sconto È stata proprio una cosa del momento così Quindi niente Ci vediamo tra poco Allora Mi è arrivato il pacchetto Non vi preoccupate Questi non sono In diritto Nel mio diritto Non è niente E lo vogliamo aprire Lo volevo aprire insieme a voi Quindi Andiamo ad aprire Anche se Sarà un po' difficile Così Prima di lavarmi Di andarmi a preparare Ero troppo curiosa di aprirlo Di vedere com'era Il cane è molto curioso Guardate questi pacchi di Sephora Cioè Vabbè Comunque Ecco qui Mi hanno dato Anche il pacchettino regalo Che non mi servirà Ma vabbè Questa bustina molto carina Casomai debba fare un regalo E questo Ah Hanno messo anche la busta Comunque ultimamente I pacchi di Sephora Devo dire la verità Li hanno migliorati Allora L'unica cosa che io spero È che mi abbiano dato I campioncini giusti Perché Sapete che Fanno cose strane I campioncini O non ve li mettono O non ve li mettono Diversi O non ve li mettono Proprio come nel mio caso Me ne hanno messo solo uno Benissimo Vabbè Allora Allora Faccio vedere subito Il campioncino Questo qui Di Estée Lauder Il Lavalware Chissà Che colorazione È shell beige Probabilmente anche Molto scura Vabbè C'era anche Il La mini taglia Della matita Di benefit Per le sopracciglia Però vabbè Ne ho messi due Ma me ne hanno mandato Solo uno Poi ho preso Questi patch Famosissimi Di Paciologi Che ho visto In molti video Soprattutto in quelli Michelinia Che le consiglia sempre E niente Sono stata molto Ero molto curiosa Non mi ricordo Quanto costassero Sinceramente Mi sembra Sui 11 euro Però contate Che tutto quello Che ho preso È stato scontato Del 20% Sono diverse Sono 5 Sì Quindi Questi Non vedo l'ora Di provarli Ecco Per esempio Oggi Mi sarebbero Molto utili E poi Pezzo forte Motivo per cui Ho fatto quest'ordine È proprio La Melted Matte Di Too Faced Questa qua In limited edition La gingerbread Girl Ora L'apriamo Vediamo com'è Deve essere Un colore Stratosferico Speriamo che mi piace E che mi sta bene Ok allora Peck Sia esterno Che Appunto interno Stratosferico Bellissimo Vabbè Questo Questo già lo sapete Il colore È questo È un rosso Mattone Scuro Che Spero Mi stia bene Non perché Cioè è un bellissimo colore Mi piace molto Però Sulle mie labbra Le mie labbra Le mie labbra Scuriscono Qualsiasi cosa Quindi Questi colori Di solito Diventano ancora Più scuri Di quello che Poi sono E ho paura Che diventi troppo scuri Però Vabbè Lo proverò stasera Che forse Vado al cinema Se esco Lo metto Ve lo faccio vedere Perché adesso Dove devo andare Non è il caso Poi il giorno Io questi colori Non li metto di giorno E Ragazzi È un profumo Cioè io L'ho sentito Tutte le recensioni Tutte le persone Che lo facevano vedere O mio dio il profumo O mio dio il profumo Però Vi giuro Io non so come Secondo me Sarà difficilissimo Applicarla Perché Ha proprio un odore Fortissimo Di biscotto Vaniglia Quasi Troppo forte Quasi stucchevole Veramente Fortissimo Cioè Vi nebrirà Tutto il giorno Vi verrà una fame Incredibile Vabbè niente Questo è Se Voi Conoscete questo negozio Che volete ordinare Vi lascio qui appunto Gli sconti Se li volete usare Tanto io Non li utilizzerò mai È Il primo Che solo accaparra Cioè insomma Prima fate Prima avete la possibilità Di accaparrarvelo Ah e poi Vi voglio far vedere Anche un prodotto Che invece Mi è arrivato ieri Da Amazon Che non vedo l'ora di provare Che sono questi I classici calzini Queste maschere per i piedi Che ti esfoliano E ti fanno cadere Tutta la pelle Come un serpente Una scena del tutto Sicuramente Diciamo Agghiacciante Che sicuramente Non vi farò mai vedere In In Video Però Vabbè Non vedo l'ora di provarli Penso che li proverò domani E La cosa che però Mi è stupito Questi li ho pagati solamente Mi sembra 8,99€ Comunque ce ne sono diversi La cosa che mi è stupito È che Alla fine Se andate a vedere l'inci È acqua Glicerina Olio di ricino Lavanda e aroma Cioè Cos'è che Ti fa cadere la pelle Sembrano solo ingredienti Idratanti Glicerina Olio di ricino Cioè Cos'è che vi fa cadere i piedi Boh Non lo so Vabbè Comunque Se l'avete provate Uno di questi tre prodotti Soprattutto questa crema Questo maschera piedi Fatemelo sapere Perché sono curiosissima Anche di sapere Soprattutto come funziona E vabbè Niente Io adesso Ora è veramente Tardissimo Vado a farmi la doccia Mi sistemiamo i capelli Mi faccio il trucco E poi ci vediamo dopo Allora Salto temporale Di tre o quattro ore No Di due ore Praticamente Sono scesa Sono finalmente scesa Mi sono Aggiustata un po' i capelli Perché erano sporchi Ma Non avevo né tempo E né voglia di lavarli Quindi li ho fatti indulati Perché sembrano meno sporchi Scusate la luce Poi mi sono truccata Adesso sono scesa E sono in ritardo Allora Sono uscita Ho fatto quello che dovevo fare Adesso Mi incammino Verso il parquet Docio degli occhiai Ovviamente Scioccanti Questo trucco Che sembrano quasi Che non mi sono truccata Però vabbè Ci vediamo tra poco Dovamo andare al cinema Stasera Però Non so se Riusciremo ad andare Perché Abbiamo visto sul sito E non c'è tipo più Il film che ci vogliamo vedere Lo spettacolo Però non so Se è una cosa del Cioè se è un problema Tecnico Tipo che Ci sono sbagliate L'hanno tolto Perché ci dovrebbe ancora essere E spero davvero che ci sia Adesso devo chiamare Per vedere il servizio clienti Per vedere se c'è o no E Spero che ci sia Perché me lo voglio dire Da un sacco di tempo Cioè da quando è uscito Però Non sono potuta andare prima Ed è forse meno Tra l'altro Se lo volete sapere Aggiornamento serale Sono tornata a casa Purtroppo Sono Ho verificato Il fatto del film Del cinema Non so se ve l'ho detto Comunque Volevamo andare a vedere Un film Però Purtroppo Non è più disponibile Non si fa più E quindi A me questa cosa Mi fa un po' arrabbiare In realtà Perché Dovrebbero scriverlo Sul sito Secondo me Da che giorno A che giorno Lo terranno In sala In tutti i film In realtà O comunque Se lo levano Almeno avvisarti Il giorno prima Guarda stasera È l'ultima proiezione Domani non ci sarà Quindi mi aiutano a vedere Se te lo vuoi vedere Invece no Vabbè A parte questo In realtà Non vedevo l'ora Di tornare a casa Perché Non vedevo l'ora Di provare La Melted Di Too Faced Quella che mi è arrivata Che vi ho fatto vedere stamattina Ma no Quanto è bella Io non putterò mai Questo pack Cioè è troppo bella Serò sempre così E quindi L'ho indossata subito Appena sono tornata È questa qui Ed è proprio Effettivamente Un rosso mattone Sono felice Che sulle mie labbra Non risulti Troppo scuro Troppo marrone Ma anzi È un bellissimo colore Che mi vedo indossare spesso Soprattutto Da adesso È proprio Super atunnale È anche super Natalizio Ha un odore Che fate Veramente difficoltà A metterlo Ve lo dico Cioè l'applicazione è facilissima Lo scovolino È molto molto utile Cioè è molto È fatto bene Mi piace molto Piccolino Ma ha fatto bene Cioè vi giuro Ragazzi non potete aprirlo Questa cosa Non so come hanno fatto Questa profumazione Vi dico soltanto Che appena l'ho messo Il mio cane Mi annusava Come se fosse Non lo so Cioccolato fuso Solo per lei Comunque La volevo mettere Stasera al cinema Appunto Ma visto che non vado più Ho deciso di utilizzare Lo stesso Perché sono troppo curiosa Cioè Ero troppo curiosa E Veramente Fatemi sapere Se a voi piace il colore A me piace tantissimo Veramente Quanto è bello Adesso lo userò Poi tutta la sera Vedo pure come si comporta Mentre mangio Ora si dura poco Non mi interessa Perché il pack È talmente bello Che non fa niente Chi ci bacca Vieni Vieni amore Fatti vedere Ma è piccolino Amore mio Amore mio Io ti amo Io ti amo Mentre Me la facevo a piedi Per arrivare Alla macchina Napoli Al parcheggio Appunto Ho visto un corriere Il tizio Del corriere GSL Con un pacco in mano Di Maki Lalea Cioè Maki Beauty Adesso è diventato Maki Beauty Per me è difficilissimo Chiamarlo Maki Beauty Mi scordo sempre Cioè per me ormai Maki Lalea Maki Lalea resterà Comunque Di Maki Beauty Avevo la voglia Di prendere il pacco di aprile Lo prendo E lo apro Ma non per rubarmelo Cioè proprio per la curiosità Di vedere questa ragazza O questo ragazzo Cosa avevano comprato Cosa c'era dentro Cioè se tipo Avevo i miei stessi gusti Se erano addicted Del mondo del make up Del beauty Come me Perché sapete Io vivo in un paese Comunque in generale Sono circondata da persone Che non condividono La mia stessa passione Ed è una cosa veramente brutta Ed è il motivo principale Per cui ho aperto Oh scusami amore È il motivo principale Per cui ho aperto Il canale Proprio per condividere Tutti questi pensieri Questi consigli Queste cose Che io provavo E vedevo tutti i giorni Magari non potevo condividere E per me era brutto Questo fatto di non poterlo condividere Non mi piaceva il fatto Di non poter condividere Di potermi sfogare Su queste cose No? Insomma Di parlare Di chiacchierare E quindi Ho sentito La necessità di parlare Qualcuno E per questo Per il canale E quindi Il mio pensiero Chissà cosa si è comprata Chissà se ha preso cose Che io appunto Da tempo Oppure Ho già preso Da maquillaria Che mi piacciono un sacco Non lo so Va bene Amore mio Guardate come mi vuole Leccare le labbra Perché sono troppo saporite E lo suo amore È difficile resistere E a proposito Stavo pensando Visto che comunque Non esco più E resto a casa Di potervi far vedere Di poter mettere La maschera Quella per i piedi Quella esfoliante E quindi magari Farvi vedere Anche voi Come la Utilizzo Però non vi faccio Non vi posso far vedere Appunto I progressi Perché Accadono dopo 3-4 giorni Tipo Cioè non è una cosa Immediata Tra l'altro Il mio telefono Sta avendo anche Problemi di memoria E non capisco perché Sinceramente Perché ho cancellato tutto E Non lo so Un iPhone Che ha problemi di memoria Nonostante abbia cancellato App App del telefono Cioè che trovi già Nel telefono Appena lo compri Ma una quantità Di app incredibili Foto Le ho tolte tutte Tutte le foto Tutti i video Le ho tolti Ho cancellato le conversazioni Di whatsapp Ho cancellato tutti i messaggi Cioè che devo far più Che devo far più Dimmi che devo fare più Alla fine questi capelli Si sono mantenuti Io ho un tipo di capello Che Non sopporta queste cose Cioè io tutte le volte Che mi sono fatto i capelli Mossi Con i boccoli Perché prima si portavano Solo i boccoli Non venivano mai bene Non mi sono mai venuti bene Invece questa qua È l'unica piastra Che sarebbe quella classica Ad onde Beach waves Tipo Che si trovano anche dei cinesi Cioè io l'ho presa Su una bancarella A 12 euro Quindi voglio dire Non è niente di professionale Me li mantiene Certo ovviamente Non sono come le ho appena fatti Stamattina Però per me Questo è un traguardo Perché di solito Non mi durano assolutamente niente Comunque Fatemi sapere Se Questo tipo di vlog vi piace Ve lo dico in tutti i vlog Io in realtà Quando ho iniziato il canale Non avrei mai pensato Di poter fare dei vlog Ma alla fine Le sto cominciando a fare Come avete visto E non mi dispiacciono Devo essere sincera Certo Se ci sono dei giorni In cui proprio Non faccio niente Cioè ci sono alcuni giorni In cui so che devo fare So il mio programma Della giornata E quindi mi fa piacere Magari portarvi con me Farmi Fare compagnia O farvi compagnia Durante la giornata Perché comunque Mi muovo Faccio qualcosa Oggi sono uscita Però non è che Vi ho fatto vedere niente Non mi ho fatto vedere Napoli Non mi ho fatto vedere Assolutamente niente Cioè comunque Avete visto sempre me E Però vabbè Vi ho fatto vedere Qualche pacco Che è arrivato Vi farò vedere la maschera Vi ho fatto vedere la tinta Insomma Qualcosa vi ho inserito Invece di altri giorni Magari in cui Non mi arriva niente Non faccio niente Sono sempre in casa Studio solo Sono struccata Non è proprio il massimo Diciamo Certo so che non è Che ha successo Perché ovviamente Ho pochissimi iscritti Quindi ok Però Insomma Si può far piacere Già solo a pochi di voi Per me Non ci sono problemi Di continuare Questa serie Comunque La tinta È questa Questo è il colore Mi piace tantissimo Volevo dire una cosa Ultimamente Quando vado su youtube A proposito di youtube Devo essere sincera Sono sincera Ultimamente Mi sto un po' annoiando Perché I video Che stanno uscendo I contenuti Che ne escono Non sono Di mio gradimento Oh questo Non voglio dire Che stanno sbagliando Che youtube Sta morendo Tutto il casino Al di là di quello Proprio un fatto mio Cioè Adesso Se apri Se apro youtube La sera In qualsiasi momento Della giornata In cui voglio distrarre Vedere un video O ci sono Vabbè Nei video delle americane Tutti che fanno Il video Sulla nuova piastra Di Dyson Che costa 550 dollari E lo scrivono Tutti Nella copertina I youtube italia Invece Vedi O O Video Sulla nuova palette Di Nabla Che Ok L'ho vista una volta L'ho vista due volte L'ho vista tre volte Basta 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 Oppure parlano Dello scandalo Kissing make up Cioè Nicole La quale ha fatto Il famosissimo video Unpopular opinion Dove Ha detto A parte che il video Si chiama Unpopular opinion Poi Ha detto Come premessa Non prendete questo video Troppo sul serio Ha spiegato Di cosa si trattava Ma comunque Tutti l'hanno presa sul serio Cioè E allora Io capisco Io capisco Che ha sbagliato i modi E ci sta Anche se devo dire Sono sincera Devo dire Che io Quando ho visto il video Non ho trovato nulla di che Forse perché Alla fine Quasi tutte le cose Che dice Sono cose Che io non faccio Cioè Nel senso Io non utilizzo Il fondotinta Troppo coprente L'unica cosa Che faccio È utilizzare L'illuminante I glitter Non li utilizzo Ma non perché Non mi piacciono Perché proprio Sono io Che non Non li utilizzo Che altro più Le sopracciglie Superfatte Io non le so fare Quindi Cioè Non le so fare Nemmeno normale Figuriamoci Superfinte E professionali Quindi anche Quello Non lo faccio Insomma Non erano cose Che urtavano A me Principalmente Quindi capisco Che altre persone Che invece Fanno queste cose Si sono trovate Molto offese Cioè Si sono sentite Offese E sul personale Io invece Vedendo quel video Non ho visto Niente di che La prima volta Che l'ho visto E l'ho visto Prima che Succedesse Lo scandalo Cioè L'ho visto Tipo appena Era uscito Io non sono iscritta Al suo canale Però ogni tanto Mi capita di vedere Qualche video E non vedi Niente di particolare Devo essere sincera Anzi Vedi un video Anche abbastanza carino Nel senso Che comunque Ci sta Che ogni tanto Una persona Cioè Come concetto Del video Al di là del suo Dico Proprio come genere Di video Ci sta Cioè Mi era piaciuto Perché ci sta Che ogni tanto Uno dice una cosa Diversa Da tutti gli altri Che si omologano E si amalgamano E Vabbè Niente Quindi Poi Successo Lo scandalo Io vedendo Qualche video Che ne parlava Contro di lei Diciamo Allora ragazzi Il telefono Si è Riempito di memoria Si è spento Ho dovuto Togliere Tutte le foto E tutti i video Che avevo Sul mio telefono Sul computore E comunque Mi dava problemi Quindi adesso Non so Quale è il problema Non so Quanto durerà Quanto mi farò Ancora filmare Comunque Vi aggiorno Un attimo E poi vi saluto Non facciamo La maschera Insieme Perché Appunto Non so Poi finisce Che non riesco A finire il video E quindi È meglio Salutarci qui Comunque Sono andata a mangiare La tinta Si è tolta Si toglie Tranquillamente Però Vi dico Che è una cosa Un po' fastidiosa In quanto Questa profumazione Molto dolce La rende Appunto Dolce Cioè Se l'assaggiate Mentre si scioglie È effettivamente Dolcissima Quindi siccome Io stavo cenando Stavo mangiando Cose salate Con questo dolce Mi dava fastidio Quindi poi A un certo punto Ho tolta tutto Però vabbè Alla fine Sono cose così Tanto per A me non interessa Molto che una tinta Rimanga tantissimo Mentre mangio E poi Nessuna tinta A me me lo fa Solo le mebili Mi mantengono per sempre Ma quelle Chissà che c'è dentro Però comunque Vi voglio dire Che È confortevolissimo Se le labbra Non la sentite proprio È facile da stendere È super più pigmentata Non fa chiazze Si stende bene Io ve la promuovo Ovviamente l'ho provato Una volta Quindi non lo so Però Vi dico che Siccome Iniezione limitata Se la volete provare Siete curiosi Vi consiglio di Andarla a comprare Sia perché c'è il 20% Di sconto Poi adesso Viene sicuramente Il Black Friday Qualche sconto Lo faranno E sia perché Può finire tranquillamente Perché appunto Iniezione limitata Per concludere Per concludere Un po' Il discorso Di Youtube E del fatto Di Nicole Che vi stavo raccontando Alla fine Io in quel video Non ci avevo visto Niente di male Poi andando a vedere Nelle serie di video Che analizzavano Un po' Il suo video Di altri Youtuber Mi sono resa conto Che effettivamente Utilizzato dei termini Sbagliati Poteva sicuramente Farlo meglio Questo video E quindi Su questo sicuramente Ha sbagliato Però tutto l'odio Che poi Le è andato contro Secondo me È un po' Esagerato Addirittura Moltissime Youtuber Anche famose Hanno fatto Dei video O comunque Hanno scritto Un post Dei commenti Contro di lei Diciamo Per quel video Che aveva fatto Eccetera Io sono d'accordo Tutti siamo liberi Di fare quello Che vogliamo Però comunque Secondo me Quel video Era da prendere Un po' Così Alla leggera Ed è una cosa Che comunque Aveva detto Anche lei A inizio video La cosa Che mi fa più ridere È il fatto Che lei Tutto Tutt'oggi Non ha mai risposto Cioè ha fatto Un sacco di vlog Altri video Ma non ha mai Detto niente Proprio come se Non fosse successo niente Io qualcosa L'avrei detto Qualcosa E anche non poco Qualcosa L'avrei detto Un video Ce l'avrei fatto Se proprio Non vuoi fare un video Fai appunto Uno spezzone In un vlog In cui spieghi La situazione Quello che hai detto Eccetera Ti scusi Se hai offeso Qualche persona Cosa del genere No Questa è sicuramente Una cosa Che non mi è piaciuta Sinceramente Comunque Per concludere Il discorso YouTube Che volevo dire Velocemente Che era semplicemente Che Alla fine Io quando apro YouTube Ultimamente Sto veramente Tanto a scorrere I video Per trovare qualcosa Che mi piace Perché appunto Sono tutti O sulla palette Di Nabla Che poi c'è Il nuovo scandalo Di una ragazza Di otta Che ha detto Che il retto blu Di Nabla Non si sfuma bene L'ha fatto vedere E poi ci sono state Una serie di cose Cioè insomma Vabbè La questione di Nabla Le conoscete Non le sapete Certo Grazie a me E quindi Non lo so A me queste cose Mi fanno ridere Cioè Bisogna stare Un po' più tranquilli Secondo me In tutto In tutto e tutti Perché Cioè Non lo so Ultimamente Sembra che Non si veda allora Che qualcuno Dica qualcosa Di sbagliato Ma non ultimamente Negli ultimi Proprio mesi Anni quasi Vabbè Raga Niente Questo video Non sa da fare Quindi Niente Chiudiamo qui L'argomento Magari ne parliamo In qualche altro video Fatemi sapere Cosa ne pensate Se vi piacciono Questi tipi di video Io vi saluto Prima che il telefono Si spenga di nuovo Mi mando un bacio Ci vediamo al prossimo video Ciao